Buongiorno, dottori. Si mette ancora come gli altri, su. Ah, sì, certo. Senti, com'è il numero del tuo dermatologo? Scrivi 44 78 55 718. Oh, a ballenza! Mi scusi, lei è l'ultimo? Sta bolletto è regolare. La cifra è alta, perché? Sono tutte chiamate intercontinentali. Va a girare leggi, questo tipo di telefonate. Va nel giro del mondo. Guatemala, Santo Domingo, Australia, Lapponia. Allora, guardi, è certamente un errore, perché mio marito non parla le lingue, figuriamoci Lapponia. Ma no! Questo tipo di telefonate va in Lapponia. Poi viene subito smistato in Italia e qui delle grandi troie, dentro casa loro, con questo tipo di cellulare, intrattengono il pugnettaro. Mi spiace, signora, se non potete pagare la bolletta. Siamo costretti a staccare il telefono. No, no, sarebbe una tragedia. Il medico ha detto che per mio marito queste telefonate sono di importanza vitale. Signora, ci avvano gli sordi! E guadagnano molto queste signorine che intrattengono questi signori? Eeeh, belle cifre! Sì, 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 maschione mio, mi fa impazzire. Eh, sono tutta nuda e voglio fare la doccia con te. Sì, 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 sì.